La mafia, questo è il tema della conferenza che ha avuto luogo oggi nell'auditorium del Polivalente Scolastico di Via Riccardo Dalentini e che ha avuto come relatrice la scrittrice Selvana Laspina, autrice tra l'altro dei numerosi libri incentrati sulla mafia. Selvana Laspina nel corso del suo intervento ha messo in evidenza anche le varie anime siciliane sul fenomeno mafia. Una frase che mi colpì molto di Ciadanne, il filosofo rumeno a Parigi, il quale diceva, parlando dei russi, che i russi sono ossessionati dall'essere russi, per cui Tolstoi tratta sempre il tema dell'anima russa. Io ritengo che anche i siciliani siano ossessionati dal problema di cosa significa essere siciliani, perché come avete notato ci sono varie Sicilie, l'anima siciliana non è facile da prendere. La relatrice si è posta anche una domanda, dove vanno a finire i beni confiscati alla mafia? Ma questi terreni presi alla mafia, questi luoghi, vengono usati o vengono abbandonati a se stessi? Tutti questi sequestri che lo Stato fa della mafia, cosa se ne fa il pubblico, la gente normale? Volevo chiedere questo, cosa se ne fanno? Allora, purtroppo questo è uno dei problemi di questi terreni confiscati. Qualcuno ricorderà che Don Ciotti raccolse un milione di firme, cosa mai è avvenuto in Italia, ai mafiosi. Purtroppo una piccolissima percentuale di questi terreni oggi è utilizzata perché le procedure burocratiche sono... Ma il denaro che viene sequestrato, cosa ne fanno? Credo che rimanga l'agenzia dei beni confiscati, che poi non so cosa faccio. Però dal nostro punto di vista è importante che quelle piccolissime percentuali che vengono affidate a cooperative rappresentano uno splendido esempio di restituzione alla comunità di questi beni sottratti in maniera... Ma scusi, in una grande crisi che è diversa adesso l'Italia, tutti questi beni non dovrebbero andare alle casse dello Stato? O c'è un'altra cupola mafiosa che poi gestisce i beni tratti o presi dalla mafia? Scusi, a questo punto... Purtroppo non sono in grado di... ho delle mie idee delle informazioni, non sono molto limitate, per cui su questo tema molto delicato preferisco non dare nessuna... No, beh, parlando mi è venuta... La Sicilia, ha detto Silvana Laspina, poteva diventare anche una grande potenza, ma... E' come se ogni volta che la storia l'attraversa la Sicilia fermasse la storia. Pensate il caso Mattei, la Sicilia poteva diventare una potenza al centro del Mediterraneo e la mafia è uno dei tanti elementi della storia siciliana, la Sicilia è molto più complessa della mafia. E' come se avesse la tendenza suicida a perdere le occasioni della storia. Questa è la sua grande tragedia, essere accodata a uno Stato che non la vuole mentre è la Sicilia che non vuole lo Stato. Quindi quando mi dicono si farà l'Italia, io ho dei grandi dubbi, si farà prima l'Europa, ma l'Italia si farà semmai dopo.